Siamo quasi alle 10 qui vicino Venezia a casa di Lisa e Stefano, giovani dopo tre anni di matrimonio. È una sorpresa, venite qui vicino a Madonna, c'è due e io voglio chiedere a tutti quanti che pregate per i giovani sposi, pregate perché il loro amore sia sempre più grande e preghiamo che possano ricevere il figlio o la figlia, ma la Madonna che sta camminando con i suoi santi, qui ci sono Giovanni Paolo II, prega per noi e con San Charvel Macroux, loro che così tanto innamorati sono entrati tutti a questa vostra casa, ma io direi come la visita, la Maria che così improvvisamente non sapevate niente, che vi viene proprio a fare la visita. Allora preghiamo e io ho aperto adesso, diciamo, avevano questa pregate, pregate, ma ho detto quale preghiera diciamo, ma io ho aperto così, esce l'Italia in onore di Maria Madre della conversione. Allora diciamo insieme, diciamo insieme questa l'Italia, va bene? Per la vostra famiglia, preghiamo per tutti i vostri intenzioni, ma soprattutto chiediamo che Gesù vi dona la grazia di avere figli, che potete sentirsi sempre più vicino, con amore più forte, che scioglie qualunque legami che non erano legami giusti, che spezza qualunque legame e qualunque persone che possano avere influenza su di voi, su di tanti anche, l'influenza del mare. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici, Padre del Cielo Dio, abbi pietà di noi, Figlio Redentore del nostro mondo Dio, abbi pietà di noi, Spirito Santo Dio, abbi pietà di noi, Santa Trinità un solo Dio, abbi pietà di noi, Santa Maria prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi, Madre della conversione, prega per noi, Madre delle grazie, prega per noi, Madre della speranza, prega per noi, Madre di ogni consolazione, prega per noi, Corredentrice del genere umano, prega per noi, Mediatrice di ogni dono, prega per noi, Rifugio dei peccatori, prega per noi, Arca dell'Alleanza, prega per noi, Madonna del miracolo, prega per noi, Donna fedele a Dio, prega per noi, Donna del sì, prega per noi, Donna docile alla grazia, prega per noi, Donna umile, prega per noi, Donna obbediente, prega per noi, Donna perseverante, prega per noi, Donna vittoriosa dell'Apocalisse, prega per noi. Adesso diciamo anche questo mistero del rosario, assunzione della nostra madre, perché assunta in cielo, e poi anche diciamo questa preghiera, diciamo per questa preghiera per tutti i nostri cari defunti, per vostra bisnonna, per i vostri defunti, preghiamo anche per tutti quanti che vivono qui in questo Paese, è vostro, per i giovani, ma affidiamo sempre a voi la vostra vita, che Dio vi dona la salute, che intercede, Madre Santissima, a voi, da qualunque forza visibile e non visibile, quella cattiva, dal male, preghiamo per i vostri genitori, preghiamo per tutti quanti che vivono qua. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venne il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così intera, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indura in tentazione, a noi i nostri debiti, come noi i nostri debiti, come noi i nostri debiti, come noi i nostri amici. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del suo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora del nostro amore. Tu dici metà. Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del suo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del suo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Vicino Brescia, oggi anche, sono stato in una famiglia, un benedetto e sposi che hanno 40 anni di matrimonio, 4 figli. Ma anche vi do la benedizione che siete 3 anni dopo matrimonio. Non avete figli che la Madonna intercede, che potete averla, essere felici nella vostra vita. E siamo proprio nella vigilia dei Santi, della Madonna, quando nel giorno dei Santi andate in chiesa. Ricordate che Maria va venuta per voi, con i Santi. Per questo giorno dovrebbero essere di gioia e vi darvi proprio trzoni nel vostro cuore. Non capite a tutti così. Per quello che vediamo prima che diciamo la preghiera, io non vedo anche lingua polaca, per voi, per la preghiera, tutte case di San Charpel. Sì, noi siamo qui in questo domino, in un'estero in Davido, in un'estero, po 200 km ponad, bisogna fare fare, per do portugare. Forse non sono 3 anni dopo l'a, non possono avere dzieci. Per noi abbiamo quindi l'asso del nostro per la potenza. Come si piaciuto che non ciesano l'asso, che si ricordano, che non ciesano l'asso, che aiuto di loro, che ho provocare da loro l'asso. Bożej. A wiedziałem, że tak bardzo tego potrzebują. I dzisiaj modliliśmy się za młodych i za wszystkich, którzy potrzebują tej łaski. Matka Boża przyszła, mówię do nich jak do Elżbiety. Wcześniej koło Bresci błogosławiamy małżeństwo, jak widzieliście. 40 lat po ślubie oni, 3 lata po ślubie. Pamiętajcie o nich. A teraz odmówimy modlitwę, którą napisał kardynał Angelo Comastri. I ci amunizujemy questa preghiera, che ci affatto kardinale Comastri. Guardate verso la Madonna e diciamo insieme. A Maria Assunta in Cielo, la Tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del Tuo Figlio Risorto, e sei entrato nella festa dei Redenti, come Madre che aspetta i figli nel tanto appeso abraccio di Dio. Maria Assunta in Cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l'affarna dell'invidie del viaggio. Prendici matermanente per mano e mentre camminiamo parlaci del Cielo, affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria Assunta in Cielo, davanti a questa immagine, ha pregato il giovane caro Vojtyla, e si è consegnato a Te, dichiarandosi totalmente Tuo. Dal Cielo, insieme a Te, ora interceda per noi, e ci accompagni nel cammino della fede, e quando verrà il nostro giorno, ci introduca la festa dell'eterno amore. Amen. Maria Assunta in Cielo, prega per noi. Allora qui scritto, Madonna, davanti a questa immagine, nel 48 all'inizio del suo sacerdozio, per un anno intero, ha pregato, Don Carol Vojtyla. Per questa benedizione, adesso, con le reliche di San Giovanni Paolo II, con le reliche di San Sarberma Club, i santi che oggi sono qui con voi, e sempre Maria, che non vi lascia, che il Signore sia con voi, e con il tuo Spirito. Ti benedico Dio omnipotente, Padre, e Figlio, e Spirito Santo. Amen. Adesso ancora benedico. Posso dirvi, guardate, qui ce lo vedete, queste immagini siete primi di ricevere, perché appena sono stati stampati. Per diverse persone, ma siete primi di avere in mano, nuove stampate immagini della Madonna. To sono obrazki, zobaczcie, dzisiaj odebrałem, właśnie z drukarni, dzisiaj, ale to ktoś właśnie, zrobił taki dar, z modlitwą Matki Bożej, a oni są pierwszymi, którzy otrzymują taki właśnie obrazek. Spirito Santo. Amen. Anzi, Grazie a tutti. Grazie a tutti.